e se iniziamo con lo studiare il coltello rovesciato definito anche alla galeotta o coltello rovesciato alla galeotta per quale motivo perché spesso questo sistema veniva preso in campi molto ristretti come potevano essere quelle delle carceri in cui nel passato si usava un surrogato del coltello cioè da dire affilare il manico del cucchiaio più che altre invenzioni tipiche del del carcere il meccanismo di offesa e difesa e simile a quelli che abbiamo precedentemente studiato ma ovviamente occorrono delle correzioni che sono quelle che andremo a fare in guardia attacco di punta ritorno in guardia attacco di punta ritorno in guardia cambio mano attacco di punta torno in guardia attacco di punta torno in guardia cambio mano avanzando attacco di punta in guardia attacco di punta in guardia cambio mano punta con la mano che spinge come rinforzo torna in guardia punta in guardia anche indietreggiando cambio mano attacco di punta cambio mano le braccia vanno in protezione punta le braccia vanno in protezione punta attacco di taglio passo in avanti attacco di taglio cambio mano 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 attacco di taglio indietro 1 2 3 4 combinazione punta taglio punta taglio punta taglio indietro sempre col coltello rovesciato una punta 2 taglio guardia primo taglio secondo taglio passo in avanti punta primo taglio secondo taglio passo in avanti punta taglio taglio punta taglio taglio punta taglio taglio punta taglio taglio indietro in protezione punta taglio taglio punta taglio taglio punta taglio spinta taglio taglio punta taglio taglio chiusura prossima sequenza taglio diagonale un'altra parte a salire guardia passino a taglio punta cambio 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 taglio punta indietro taglio punta taglio punta taglio punta taglio punta taglio punta chiusura Grazie a tutti.